Scontri tra forze di sicurezza e manifestanti antigovernativi in Thailandia. A Bangkok la polizia ha sparato lacrimogeni per disperdere un gruppo di dimostranti che stava cercando di bloccare il sito di registrazione dei candidati alle elezioni. L'incidente all'indomani della decisione del governo di prolungare per due mesi le leggi speciali sulla sicurezza.